Benvenuti a tutti qui Balconi TV Trento. Oggi sono sdraiato sulla terrazza del rifugio Bindisi in compagnia di Judy e Quani. Ci faranno ascoltare il loro brano The Dodds. Buon ascolto. 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 oh ragazzi che bomba veramente grandissimi grandissimi giuditta vieni pure che meraviglia ragazzi brividi rock oggi sul terrazzo dei bindisi paura ragazzi facciamo un bindisi facciamo un bindisi very good no ragazzi presentatevi obbligo io sono judy io sono quani e qui e siamo una band insieme siamo judy e quindi è tutto chiaro molto bene ragazzi io vi voglio chiedere allora questa energia pazzesca al brano the doves raccontateci qualcosa del brano raccontateci di voi certo allora è un brano che sarà contenuto nel nostro album in uscita brevissimo assieme a molti altri brani sempre molto così un po matti come noi e niente di cosa parla questo brano qua questo brano parla della relazione con le persone bisogna spesso vestirsi mettendosi dei guanti per proteggersi quando ci si dà gli altri giusto attenzione ragazzi allora esatto mi sembri molto coinvolto da questo tema un po sì un po sì ma non apriamo parentesi no ci appartiene ecco invece parlateci piuttosto dell'album allora è un album molto intenso che racchiude diciamo quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni e sono stati due anni belli pieni di avventure perché io e quani siamo coinquilini esatto abitiamo insieme da due anni e abbiamo deciso di unirci dato quattro anni in effetti abbiamo deciso di unire le passioni per il rock per pagare l'affito e quindi se ne aggiriamo con la con la panda la carichiamo di strumenti e questa è un po la nostra quotidianità come oggi siamo riempita caricata e siamo qua a suonare speriamo di farlo più possibile viva la panda ragazzi non so da chi è stata così ideata ma il signor panda no il signor panda esatto era un rocker anche lui probabilmente grandissimi quindi questa panda ha macinato chilometri come voi insieme a voi ecco quindi voi fate molti concerti ragazzi dov'è che possiamo guardare vedere sul web le date e tutto allora beh dovete sicuramente vedere la nostra pagina facebook perché contiene un sacco di novità soprattutto adesso che c'è un calderone ricco di rock e niente mettiamo sempre le date lì e anche su instagram quindi giudiequani facebook e giudiequani instagram poi abbiamo un canale youtube che sarà sempre più bello polposo e quindi non è difficile trovarci venite a supportare le nostre serate e ecco insomma ci sarà da divertirsi beh ragazzi veramente noi vi ringraziamo per questa ondata rock and roll qui sul rifugio bindesi veramente paura veramente grazie a voi perché è veramente un onore essere qui per una volta non siamo chiusi in qualche scantinato vero quani esatto assolutamente ringraziamo vi ringraziamo un sacco che perché siete veramente dei fighi a fare queste cose guardate dove siamo cioè non siamo in cantina come si può notare ma siamo sul brennero sull'autostrada no è fantastico esatto dai ragazzi noi guarda lo ridico vi ringraziamo di nuovo ringraziamo il rifugio bindesi che ci ospita la ppm che ci permette di portare avanti il nostro balcone tv trento e noi io almeno vi saluto di saluto solitamente con un con un ciao e con uno stay with us very good e salutiamo anche il nostro giulio l'altro presenter ciao giulio va bene ragazzi ancora viva rock and roll balcone tv balcone tv ciao 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 Grazie a tutti.